E allora buongiorno, ed è veramente buongiorno alle 17.30, perché mi sono svegliato nuovamente alle 17.30, ok? Perché? Perché sto lavorando alla risoluzione del caso Mostro di Firenze, lo faccio di notte, va bene, non è che si sta qui a perdere tempo, sto lavorando a questo caso e quindi la notte si ragiona e si lavora. Poi mi sono svegliato giustamente alle 17, apro Instagram, vedo il video della Emily del Torino in minigon, già ho avuto esperienze veramente oniriche a vedere questo. Poi mi arriva la notizia, mi arriva su questo, mi arriva pure il fomento, mi arriva la notizia dell'amichevole Venezia Copera Caorle, ho provato cose, ho provato diciamo trasporti serenissimi oserei dire. E mi è partito, ho proprio detto che cazzo sta succedendo adesso? Poi vado sui principali siti di mercato, sui principali nocciuoli di mercato, che cosa mi viene fuori? Qual è la notizia del giorno? La notizia del giorno è che vi è Mazzarri al Napoli, vi è Mazzarri al Napoli, vi è del Mazzarismo al Napoli, Mazzarri allenatore prescelto per il Napoli, infatti dopo devo anche andare di corpo col buon Flavio Ogni Santi, che vi porto domani, va bene. Il demone del Gargano, ve lo porto domani perché dobbiamo parlare di Fiorentina, quindi domani annullate qualsiasi impegno perché parliamo con Flavio Ogni Santi. Quindi aspetto la vostra, ditemi intanto poi oltre che sul Napoli nei commenti devastando di like, ditemi la vostra su questa amichevole Venezia Capodistria in quel di Caorle, ditemi la vostra anche sulla puntatina che abbiamo fatto ieri in live, andatevi a recuperare in sezione dal vivo la live di ieri perché abbiamo cagato calcio, abbiamo cagato calcio e vi ho dato anche una puntatina cinematografica, come reagireste se la Rai acquisisse i diritti di Twin Peaks e mandasse in scena una versione nostrana, una versione da mamma Rai di Twin Peaks, con Caspar Capparoni, Caspar Capparoni, il Capparoni nel ruolo dell'investigatore Cooper e Ivan Zazzeroni, nostro, nel ruolo del nano della loggia nera. Quindi ditemi intanto la vostra su queste due importanti questioni, Venezia Capodistria a Caorle e questa puntatina cinematografica, poi veniamo al Napoli. Allora qui sarò estremamente ripetitivo ma dovete fissare i concetti, i concetti sono importanti e vanno fissati. Il Napoli quest'estate doveva prendere italiano Vincenzo e non è detto che non lo faccia quest'estate perché era l'allenatore perfetto per rilevare l'eredità di Spalletti e semmai anche ampliarla per certi versi, semmai anche ampliandola per certi versi, con del giochismo osativo, un allenatore giovane, sorridente, ambizioso, perfetto per la piazza. Era l'ideale. L'italiano al Napoli sarebbe stato la continuazione di quel fuoco rivoluzionario calcistico, invece così non è stato. Hai anacquato la rivoluzione calcistica, ok? Hai spento il bracire napolitense della rivoluzione calcistica non facendo questa scelta e prendendo Garcia che oltre a essere uno sbaglio poi di De Laurenti si ha commesso degli sbagli anche lui perché non ha capito che non chiamandoti tu Vincenzo Italiano che quindi eri il delfino calcistico perfetto per quella situazione, dovevi semplicemente fare una cosa, non fare un cazzo. Ecco, nel momento in cui tu non arrivi a Vincenzo Italiano, l'allenatore del Napoli aveva solo una cosa da fare, anzi due. Non fu la prima, importantissima, non fare un cazzo, la seconda sorridere, così. Che allenatore serviva al Napoli? Questo. Come quello del meme che c'è su Inseglie, sì, fresco come una rosa. Ah, quello, quello serviva. O lui, o uno così, o un qualsiasi cliente della pizzeria Sorbillo di Napoli, preferibilmente pelato, ma sorridente, che arrivasse, andasse a Castelvolturno e si portasse una sola cosa, una mocca di caffè, si sedeva in panchina e diceva ai giocatori, guardate io, ecco, sto qui sei mesi, voi vi ricordate quello che facevate con Spalletti? Ecco, continuate a farlo, io non faccio un cazzo. Al massimo chiacchieriamo, chiacchieriamo di pizze, e io non faccio un cazzo, io non faccio niente, e voi state lì a giocare. Questo, nel caso in cui tu non fossi arrivato italiano, serviva questo. No, è arrivato Garcia, che ha pure voluto metterci del suo, squadra verticale, sostituzioni, sempre questo. Ma a parte, ripeto, che già uno che mi va in conferenza a fare quelle sceneggiate con la macchina fotografica, o uno che quando elimina la Juve in Champions il primo pensiero che gli viene è quello di fare il pensiero agli amici romanisti, ecco, io già uno così l'avrei evitato a pie pari. Napoli l'ha preso, ci sono tanti degli errori, suoi ovviamente e di De Laurentiis nell'averlo preso, e quindi la situazione oggi è questa. Su Mazzarri, e quindi, qual era l'allenatore da prendere in questa situazione, posto che la scelta principale e più corretta sarebbe stata quella di Vincenzo Italiano? In questa situazione io avrei preso Cannavaro, avrei preso Fabio Cannavaro perché era un allenatore tutto sommato piaccione, un bello guaglione, con un bel sorriso, ok? Un allenatore giovane che ti costava anche meno di tutti questi nomi che sono stati affiancati, che poteva avere validità nel rinsaldare i rapporti, e non avendo un grosso trascorso tecnico-tattico alle spalle, poteva anche farsi malleare dal gruppo Napoli che avrebbe voluto comprensibilmente un ritorno al passato. Tu prendevi Cannavaro, che mi pare fosse anche una richiesta esplicita dello staff mercato del Napoli, così mettevi all'esame anche loro, del tipo, ho mandato via Garcia, bene, mi chiedete Cannavaro, bene, lo prendo, ma se fa cagare anche lui metto in discussione anche voi, sebbene non ce ne sia bisogno secondo me perché il settore mercato del Napoli è un ottimo settore mercato e la scelta è stata principalmente quella di sbagliare l'allenatore, purtroppo tu prendevi Cannavaro, sorrideva, poteva essere utile a rinsaldare dei rapporti, mediaticamente è uno che piace, creerebbe simpatia, avevi anche l'occasione per, se mai c'erano dei trascorsi, andare a ricorreggere delle incomprensioni che c'erano stati ai tempi, era un bello guaglione che ti metteva in buona disposizione anche solo a guardarlo, sorrideva, luccicava, faceva un bel conciliabolo tra i giocatori, hashtag conciliabolo ed erano tutti contenti, no, sembra non si sia scelta questa strada, Tudor per me sarebbe stato un altro errore perché invece è un allenatore con un'idea di calcio diversa, che non è quella del Napoli, di quello che può essere un percorso del Napoli veniamo a Mazzari, inutile dire che Mazzari sembra una scelta un po' in base a quel che c'è, è uno che conosce l'ambiente ma paradossalmente vi dico che rispetto a Tudor è comunque una scelta preferibile perché quantomeno Mazzari ha il pregio, quantomeno Mazzari ha il pregio di essere chiaramente un traghettatore, chiaramente uno che viene preso un po' così da libero ok, che non aveva un grosso riscontro sul mercato allenatore italiano in questo momento e uno che non credo andrà a Napoli impuntandosi con sue idee ma ci verrà anche quasi con spirito positivo e gratitudine, molto anche bonaria secondo me senza voler fare il fenomeno e quindi vai a circoincidere una scelta mettendo palesemente un traghettatore che credo non vorrà incaponirsi con personalismi per dimostrare, metti quasi un nonno bonario, quasi un nonno bonario un nonno bonario, un nonno bonario, un nonno bonario che credo cercherà di metterci il meno possibile a livello di difficoltà, a livello di complicazioni e cose, cercherà di portarlo a barca in porto, certo non è una scelta che ti dà adito a grandi aspettative magari, non è una scelta che ti dà adito a grandi speranze, però quantomeno eviti di mettere contraddizioni ancora più forti in panca, metti un traghettatore, metti uno così che è palesemente una scelta intermedia per cercare di salvare la stagione, è uno che si presenterà con dello spirito paterno e vedi come va, certo è che la madre di tutti gli errori è stata quest'estate, è stata quest'estate perché la scelta doveva essere diversa, doveva essere più netta, più precisa, doveva farsi trovare più pronto il Napoli, quindi la mia opinione, paradossalmente per certi versi ti può creare meno problematiche di un Tudor che arriva il contratto, il mio gioco, sono giovane, un'idea di calcio che voglio applicare ma non lo so, sono un allenatore di grinta ma sto fine, arriva un nonno bonario, nonno bonario che può essere una marca di stracchini, stracchini, vedi come va con nonno bonario e porti la barca in porto fino a fine stagione, certo è che diventerebbe già ottimo per come si è messa la stagione andare in Champions a questo punto, sebbene la squadra abbia le qualità per fare molto meglio rispetto a uno striminzito quarto posto, però ripeto quando sbagli le cose d'estate, vedete la progettualità, quando sbagli le scelte quando vanno prese poi è tutto un problema, un caro saluto.